Si riaccende lo scontro tra Palazzo San Giacomo e la società sportiva Calcio Napoli sulla questione Stadio San Paolo. A gettare altra benzina sul fuoco il patron Aurelio De Laurentiis, ormai sempre più intrincea tra le polemiche con la tifoseria, dell'uso dal mercato e appunto il primo cittadino. Luigi De Magistris, proprio le ultime dichiarazioni del sindaco che aveva accusato il produttore cinematografico di non aver mai dato una mano finanziariamente sui lavori di restauro dell'impianto di fuori grotta, hanno suscitato l'ultima reazione di De Laurentiis. De Magistris la smetta di fare il populista e il masaniello ha attaccato l'imprenditore e abbiamo investito molti soldi nel San Paolo e il sindaco stia attento che gli scateno il pool di avvocati. Minaccia le carte bollate quindi De Laurentiis per risolvere la querella restyling tra nuova pista d'atletica, nuovi sediolini e fondi per le universiadi. Non accenna Placaritoni neanche sulle contestazioni dei tifosi delle curve in merito a una campagna acquistica e dopo l'arrivo di Ancelotti sembrava promettere fuoco e fiamme e invece si è fermata Verdi e Fabian Ruiz. È chiaro che c'è uno scontro frontale tra la società e delle piccole frangi di tifosi delle curve, ha detto De Laurentiis. Loro ragionano con il cuore e questo è apprezzabile, però è altrettanto vero che non parliamo più di club ma di società per azioni e che bisogna fare impresa.